In collaborazione con di Iesi o nella sede di Monte Cassiano. Prenota subito la tua visita. Con farine biologiche integrali e di grani antichi a chilometro zero. C'è anche l'angolo gastronomia, sempre di produzione interna. Catering, forniture per feste aziendali e private. Su vallebio.it trovi tanti prodotti in offerta da spedire in tutta Italia. Vallebio prodotti biologici, vicino al centro commerciale Mirum, via Valenti 1, zona baraccola Ancona. Fai vincere il benessere. La salute prima di tutto. Una visita e un controllo aiutano a prevenire le malattie, a vivere più a lungo, a trascorrere sereni la propria età matura. Per questo, da 20 anni, il centro diagnostico e riabilitativo Associati Fisiomed, a Sforza Costa di Macerata, ti accoglie nella grande sede ambulatoriale, avvalendosi di un'equipe di medici specialisti altamente qualificati, che vantano una consolidata esperienza. Associati Fisiomed si trova in via Natali 1, a Sforza Costa di Macerata. Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Canale Salute. Questa sera parleremo di ictus cerebrale, che rappresenta la prima causa di invalidità nel mondo e parleremo di come riconoscerlo e come combatterlo. Vado subito a presentarvi gli ospiti di questa sera. Abbiamo con noi il professor Mauro Silvestrini, direttore Clinica Neurologica, Università Politecnica delle Marche, azienda ospedaliera universitaria, ospedali riuniti di Ancona. Buonasera professore. Poi abbiamo con noi il dottor Giuseppe Pelliccioni, direttore Unità Complessa di Neurologia, Istituto Nazionale di Covero e Cura Anziani IRCA di Ancona. Buonasera dottore. Ogni anno ci sono in Italia 200.000 nuovi casi di ictus e quasi un milione di italiani resta invalido dopo la malattia. Professor Silvestrini, che cos'è l'ictus? Sì, l'ictus, come ha ricordato giustamente lei, è una delle principali emergenze medico-sanitarie nel nostro paese, ma in tutto il mondo. E sostanzialmente è la più importante tra le malattie neurologiche, è una condizione che si verifica improvvisamente in relazione o alla chiusura improvvisa di un vaso che porta sangue al cervello o alla sua rottura. Naturalmente a questo evento iniziale seguono tutta una serie di condizioni che portano, se non rapidamente curate, ad un danno irreversibile di una parte più o meno grossa del nostro cervello, con delle conseguenze che possono anche essere fatali per il paziente. Qual è, professore, la fascia di età più colpita? Dunque, anche se in realtà noi sappiamo che l'ictus può colpire anche soggetti molto giovani, esiste sicuramente un incremento del rischio di soffrire di questa malattia più si va avanti con l'età, quindi più anni passano e più il rischio si incrementa. Quindi, pur non essendo una patologia confinata all'età anziana, è sicuramente una condizione che si verifica più frequentemente in soggetti anziani. Perché, professore, è così frequente questa malattia? Intanto, gran parte della spiegazione, della risposta alla sua domanda è legata al fatto che, come condizione legata strettamente all'età, nel nostro paese, come nella maggior parte del mondo, sempre più persone arrivano ad un'età avanzata. Questo è sicuramente un segno diretto del benessere, delle migliori condizioni di vita, delle migliori capacità di cura che abbiamo. Perché, ovviamente, la nostra prospettiva di vita si è enormemente allungata, però il rovescio della medaglia è che ci ammaliamo più frequentemente di condizioni che, appunto, risentono dell'invecchiamento. Ecco, ora parliamo dei sintomi. Quali sono, professore, i sintomi che possono far pensare ad un ictus? Sì, i sintomi sono, intanto... Perché è molto importante poi riconoscerli subito. Certamente, questo è un aspetto decisivo, poi avremo modo magari di tornarci anche in seguito. Ciò che è importante ricordare è che si passa da una condizione di pieno benessere ad una condizione in cui ci sono delle difficoltà. Le difficoltà più frequenti riguardano la capacità di muovere un braccio o una gamba, la capacità di parlare, la capacità di percepire gli stimoli visivi in maniera corretta, ma a seconda della localizzazione del danno in una parte o l'altra del cervello possiamo avere tutte le condizioni che, in qualche modo, vengono controllate dal nostro organo più importante. Quindi, da una perdita di sensibilità ad una perdita della capacità di discriminare un oggetto rispetto ad un altro. Però, sicuramente, il deficit di forze, il deficit di percezione visiva, il deficit di linguaggio rappresentano gli aspetti più importanti e più frequenti. Quindi, quando ci sono questi campanelli d'allarme, è bene recarsi subito al pronto soccorso. Esattamente, è importantissimo tenere in considerazione quello che dicevo prima. Se si passa da una condizione di benessere all'improvvisa perdita di forza o di sensibilità o di capacità di percepire la visione, bisogna sempre pensare che è possibile che alla base di questi sintomi ci sia una ostruzione o una rottura di un vaso cerebrale. Bene. Ecco, dottore Pelliccioni, perché per l'IQIS voi usate la definizione di ladro? Perché, in un qualche modo, come ha ricordato Mauro Silvestrini, ci sono due concetti. C'è una concezione, nella concezione del ladro, che porta via un qualcosa di molto prezioso, che è una, in pratica, una funzione, quindi una funzione importante come la vista, come la capacità di esprimersi, come la capacità di muovere e di manipolare gli oggetti. E l'altro concetto è la repentinità, in pratica, la velocità con la quale si manifesta, in pratica, l'ictus stesso. L'ictus, che in inglese è il cosiddetto stroke, il colpo, in pratica avviene proprio improvvisamente, e come un ladro, in pratica, improvvisamente, quando meno ce l'aspettiamo, può colpire e portarci via qualcosa di molto prezioso. Ecco, questo forse ci permette, in pratica, di fare un parallelismo in questo senso. Quali sono, dottore, le condizioni che possono esporre una persona allo sviluppo dell'ictus? Sì, ci sono dei fattori di rischio, noi li chiamiamo fattori di rischio, fattori di rischio che sono non modificabili e sono, come si diceva, l'età soprattutto, nel senso che con il progredire dell'età, con l'invecchiamento, c'è chiaramente un rischio maggiore di andare incontro all'ictus e questo non lo possiamo modificare. E così come la razza, per esempio, ci sono le razze asiatiche che vanno incontro a ictus maggiormente rispetto alla razza caucasica, la razza bianca, e ci sono, per esempio, anche dei fattori non modificabili come il fatto di aver avuto un altro ictus, un altro ictus ischemic, un altro disturbo circolatorio di questo genere, può essere anch'esso un fattore di rischio non modificabile, mentre poi esistono dei fattori di rischio che sono invece modificabili e sui quali dovremmo agire, dovremmo agire con particolare rilevanza proprio per ridurre eventualmente la possibilità di avere un ictus. E questi sono, in primo luogo, l'ipertensione arteriosa. L'ipertensione arteriosa è un fattore di rischio molto significativo sia nell'ictus di tipo ischemico che nell'ictus di tipo emorragico e quindi il controllo stretto della pressione arteriosa è assolutamente importante. In secondo luogo, uno degli aspetti più importanti sono aspetti metabolici, di tipo il diabete stesso, di cui magari parleremo anche successivamente, quindi alterazioni metaboliche, le dislipidemie, cioè alterazioni della quantità dei grassi nel sangue. In quarto luogo sono molto importanti, ad esempio, aspetti di tipo di disturbi del ritmo cardiaco, in particolare la fibrillazione atriale, che è uno dei fattori di rischio più rilevanti, soprattutto nell'età un pochino più avanzate. Ricordiamo che questo fattore di rischio incrementa in modo significativo dall'età di 65 anni all'età di 80 anni, quando intorno all'età di 80 anni noi abbiamo circa un 25% di rischio di avere poi in coloro che sono fibrillanti, di avere una fibrillazione atriale non valvolare, come la chiamiamo noi, di avere un ictus ischemico. Un ictus ischemico che nelle maggior parte dei casi, questo tipo di ictus che sopravviene in corso di aritmia di questo genere, sono abbastanza pericolosi perché sono più gravi e comportano una mortalità maggiore rispetto ad altri tipi di fattori di rischio. Ci sono poi anche, per esempio, il fatto di avere un ateromasia, cioè un restringimento di quelle arterie che portano il sangue al cervello, che sono le carotidi. Sono due arterie importanti e su queste carotidi, attraverso un meccanismo di restringimento in pratica di questi vasi che portano il sangue, in pratica si può avere un meccanismo di partenza di un embolo oppure di un'occlusione di questo tipo di arteria. Altri fattori di rischio sono certamente altri, per esempio, l'utilizzo di la riduzione dell'attività fisica, l'obesità, il fumo, che sono tutta una serie di fattori che possono essere assolutamente modificati e hanno una loro assoluta rilevanza nella genesi, in pratica, degli ictus, e anche la riduzione della mobilità, dell'obesità stessa e l'utilizzo di farmaci, ad esempio qualche tipo di farmaco che è utilizzato, per esempio, dalle donne, sono gli estrogeni, per esempio, in menopausa e alcuni tipi di malattie internistiche che possono essere in pratica dei fattori di rischio dell'ictus ischemico. Ecco, questa è una condizione, insomma, l'ictus purtroppo che può insorgere più che altro nei pazienti anziani, però, come ha detto il professor Silvestrini, purtroppo può accadere anche nelle persone giovani. Questo come mai, dottore? Perché in realtà il disturbo, non sono interessati solamente gli aspetti ischemici, gli aspetti ischemici sono prevalentemente di pazienti, soprattutto in forme genetiche, di ictus ischemici al di sotto di una certa età, e diciamo che quello che è più rilevante sono delle patologie di tipo aneurismatico, per esempio nei soggetti più giovani, soprattutto nelle donne, cioè delle dilattazioni in pratica di arterie possono essere dei fattori di rischio per rotture, e quindi per ictus di tipo emorragico. Diciamo che, come aveva accennato precedentemente il professor Silvestrini, il problema è prevalentemente un problema di tipo ateromasico e di aspetto cardioembolico, per cui la prevalenza di questo disturbo è soprattutto nell'età più avanzata, ma anche i giovani, soprattutto alcune forme genetiche, alcune forme particolari di utilizzo, per esempio di farmaci come estroprogestinici, sono soprattutto delle persone che hanno patologie di tipo delle malformazioni cardiache particolari, possono andare incontro in pratica anche a ictus in età più giovanile. Bene, bene dottore. Professore, ecco, ora parliamo di prevenzione. Come si può prevenire l'insorgere dell'ictus? Beh, dunque, parte quello che è stato esposto prima sul controllo dei fattori di rischio più noti, dal diabete all'ipertensione, però è molto importante ricordare che la buona prevenzione inizia con un buono stile di vita. Noi oggi siamo sicuri che il miglior modo di prevenire le malattie circolatorie, in particolar modo l'ictus, è quello di avere, per esempio, un buon bilancio tra l'introito alimentare e il consumo. Noi oggi sappiamo che una mezz'ora di attività fisica giornaliera è molto più protettiva di qualsiasi approccio terapeutico. Quindi questo è un messaggio importante. Non bisogna mai accontentarsi di prendere la pilloletta, che è fondamentale per curare quello che dicevamo prima, la pressione, il diabete, l'ipercolesteroemia, ma se a questo non associamo un adeguato stile di vita, una buona attività fisica, una corretta alimentazione, che tenga conto della giusta necessità di bilanciare i vari principi alimentari. Ecco, dica, qual è la corretta alimentazione? Perché oggi si parla tanto, insomma, di vari tipi di alimentazione. Qual è quella più corretta? Guardi, l'alimentazione più corretta è quella che tiene conto della necessità del nostro organismo di avere un apporto completo di tutti i principi alimentari che poi servono. Quindi la dieta mediterranea? Sì, la dieta mediterranea credo che ancora oggi rappresenta il miglior tipo di possibilità di avere una lunga vita, perché è la dieta che contiene tutti i principi che servono al nostro organismo per autosostenersi, per ripararsi, per preservare le sue funzioni vitali in maniera corretta. Ecco, quindi stile di vita, movimento, diciamo, già aiutano a prevenire questa patologia. E ovviamente, soprattutto laddove esista una predisposizione, dei controlli, dei controlli... Che cosa deve fare? Ecco, ad esempio, professore, quando un paziente ha una predisposizione genetica, perché adesso, insomma, il dottor Pelliccioni ha parlato purtroppo che anche persone giovani possono andare incontro all'ictus per una predisposizione genetica. Allora, ma a parte le malattie ereditarie esistono alcune forme in cui si altera la coagulazione del sangue, oppure c'è una fragilità dei vasi patologica. Però la predisposizione è soprattutto mediata dalla ricorrenza nella stessa famiglia di condizioni come il diabete, come l'ipertensione, come l'ipercolesterolemia. Quindi il controllo di questi fattori, che deve essere ovviamente modulato in relazione all'età del paziente... Quindi magari annualmente fare anche degli esami del sangue per vedere i livelli di colesterolo. Sì, non sempre, non c'è bisogno di farli annualmente. A volte, sicuramente più si va avanti con l'età, più c'è questo tipo di indicazione, però sicuramente laddove esista una ricorrenza di diversi casi nella stessa famiglia, è importante tener conto di questo. E anche controllare la pressione arteriosa. Esattamente, questo è un altro aspetto molto importante che volevo sottolineare, perché l'errore che si fa molto spesso è che una volta ricevuta una diagnosi di ipertensione arteriosa, si prende la terapia e si pensa di aver risolto il problema. Noi oggi sappiamo che una buona metà di pazienti che assume la terapia antipertensiva poi non controlla gli effetti della terapia perché pensa che basti questo. Questo è un errore perché a volte i farmaci non riescono a coprire per lungo tempo il disturbo e quindi eventualmente esistono delle possibilità di modulare la terapia antipertensiva, in questo caso, ma questo vale anche per il diabete, per l'ipercolesterolemia e quindi è importante che una volta avuta una diagnosi di una di queste condizioni venga controllata. Il controllarla non significa semplicemente prendere la pillola o le due pillole giornaliere, significa anche controllarne gli effetti, l'efficacia. Bene, bene. Ecco, professore, una volta che insorto l'ictus in una persona, qual è l'elemento più importante per curare un paziente con l'ictus? Allora, l'elemento fondamentale io direi, anzi, è sicuramente il fattore temporale. L'ictus è molto più di qualsiasi altra malattia, richiede per la possibilità di avere una cura efficace, un riconoscimento precoce. Il cervello è l'organo più fragile che abbiamo, quindi già immediatamente, dopo pochi istanti, dall'insorgenza di un'eschemia o nemorragia, i danni diventano rapidamente irreversibili e progressivi. Quindi l'unica cosa che bisogna cercare di fare è intraprendere la cura, laddove ci sia la possibilità, il più precocemente possibile. Ogni minuto vengono perdute migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia di cellule, di sinapsi del nostro cervello e quindi l'unico modo per interrompere questa serie di eventi disastrosi che poi avranno delle conseguenze è essere curati il più rapidamente possibile. Questo ovviamente è il presupposto fondamentale che i sintomi vengano riconosciuti e questo consente al paziente di essere trasportato in un posto, in un ospedale, dove sia impossibile curarlo in maniera specifica. Quali cure, professore, sono efficaci quando una persona poi è affetta da ictus? Certo. Dunque, diciamo che la storia naturale degli ictus negli ultimi anni si è drammaticamente modificata in maniera positiva perché fino a pochi anni fa non c'erano, non esistevano possibili. Una volta che l'ictus era insorto si poteva solo cercare di contenere il danno. Oggi esistono, fortunatamente, soprattutto nell'ictus ischemico che ricordiamo è il più frequente l'80% degli ictus sono di natura ischemica esistono degli approcci sia farmacologici che di interventistica neuro-rediologica in grado di disostruire il vaso che si è chiuso. Se questo percorso viene intrapreso rapidamente se l'efficacia della terapia viene ottenuta in tempi brevi molto spesso i pazienti recuperano completamente del loro deficit viceversa, come ha detto giustamente lei l'ictus rappresenta una delle prime tre cause di morte rappresenta la prima causa di invalidità nel nostro paese Lei ha detto che l'80% degli ictus sono di natura ischemica vuole precisare, noi siete spettatori che cosa significa di natura ischemica? Natura ischemica vuol dire che una parte più o meno grossa del cervello va incontro ad una sofferenza dovuta al fatto che non riceve più una quantità di sangue quindi di principi nutritivi che gli consentono di sopravvivere e di funzionare questo è legato all'occlusione improvvisa di un vaso che ha diverse cause ma diciamo come elemento finale è questo e questo rappresenta anche il bersaglio della terapia la terapia efficace è quella che riesce a disostruire il vaso l'ictus emorragico per certi versi è la condizione speculare opposta perché il vaso non si chiude ma si rompe e questo porta il sangue ad uscire a fuoriuscire, ad invadere il cervello e a provocarne una sofferenza che in alcuni casi può avere delle conseguenze anche maggiori Bene professore Dottor Pelliccioni quali sono gli ospedali in grado di curare adeguatamente un paziente con ictus? Gli ospedali che sono in grado di curare adeguatamente un paziente con ictus sono quegli ospedali che hanno delle strutture adeguate a trattare come diceva il professor Silvestrini l'ictus soprattutto l'ictus in questo senso l'ictus ischemico e sono gli ospedali che sono dotati della cosiddetta unità stroke o dell'unità ictus chiamiamola così che è all'interno della quale che è una struttura separata in pratica dalla corsia ospedaliera con dei letti monitorizzati con del personale che è particolarmente specializzato sia medici che infermieri che fisioterapisti e che formano in pratica un team che è specifico, adeguato a trattare in particolare l'ictus ischemico questi ospedali sono degli ospedali nei quali chiaramente il 118 che prende o preleva il paziente a casa o per strada che porta rapidamente in pratica essendosi reso conto della difficoltà e della possibilità di questa evenienza acuta cerebrovascolare porta rapidamente in pratica il paziente al pronto soccorso dove si mettono in atto tutta una serie di valutazioni che devono essere fatte in modo abbastanza rapido in primo luogo una valutazione da parte sia del medico che dello specialista neurologo ed eventualmente anche una esecuzione di un'attacca che permetta di discriminare sulla possibilità di una evenienza di un ictus come dicevamo ischemico e morragico se abbiamo la possibilità di avere un ictus ischemico in un periodo di tempo che entro una finestra terapeutica di 4 ore e 30 ecco in questa struttura di cui ricordavo precedentemente in questa unità stroke è possibile mettere in atto dei trattamenti come ricordava il professor Silvestrini quindi particolari diciamo così che in un qualche modo possono attraverso un endovena sciogliere questo trombo, questo embolo in pratica che occlude il vaso arterioso e che induce un deficit della funzione nel nostro paziente in questo senso la possibilità di ricanalizzare il vaso ci permette di far fluire nuovamente in pratica il sangue quindi di riportare sia ossigeno che glucoso in quella funzione in quella zona di encefalo che è stata in un qualche modo ischemizzata che non è stata vascolarizzata in modo corretto e quindi si può ripermettere in pratica la funzione di riprendere quindi alla riduzione della parola si può riprendere la parola stessa si può recuperare la forza, si può recuperare l'equilibrio si possono recuperare le alterazioni della sensibilità e quindi questi ospedali che hanno queste unità stroke hanno sicuramente un vantaggio in più per trattare in pratica in un qualche modo i pazienti che sono trattati in questi ospedali hanno un vantaggio in più perché in qualche modo hanno questa possibilità terapeutica certamente maggiore chiaramente si cerca anche a livello nazionale di uniformare questi standard cioè di ottenere un numero di unità stroke per un certo numero di abitanti il Ministero della Salute ha dato delle indicazioni ci dovrebbe essere un'unità stroke ogni 200.000 persone queste unità stroke tra l'altro sono unite attraverso una rete particolare regionale e fanno riferimento poi a un'unità maggiore centrale una stroke di secondo livello dove si fanno che in questo caso nelle Marche è la clinica neurologica di Torrette dove si fanno questi trattamenti di secondo livello che sono le cosiddette trombectomie meccaniche con le quali si tenta di disostruire anche meccanicamente in pratica la occlusione del vaso di cui dicevamo precedentemente Bene dottore Bene, ora noi ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria restate con noi, torniamo tra poco sempre con il professore Silvestrini e il dottor Pelliccioni per parlare dell'ictus Con Dental Coop il sorriso è per tutta la famiglia affidati ai nostri esperti per una consulenza personalizzata e per ogni tipo di cura sia patologica che estetica l'eccellenza nelle cure odontoiatriche ha condizioni chiare e vantaggiose modalità di pagamento personalizzate aperti anche il sabato Vieni a trovarci nelle nostre sedi di Ancona in quella di Iesi o nella sede di Monte Cassiano Prenota subito la tua visita Fai vincere il benessere Scegli Valle Bio Prodotti biologici ad Ancona zona baraccola Valle Bio è supermercato con prodotti biologici orto frutta fresca alimenti dietetici macrobiotici per celiaci e intolleranti è erboristeria e tanto altro Con un forno interno si produce una vasta gamma di pane e prodotti di pasticceria con farine biologiche integrali e di grani antichi a chilometro zero c'è anche l'angolo gastronomia sempre di produzione interna catering forniture per feste aziendali e private su vallebio.it trovi tanti prodotti in offerta da spedire in tutta Italia Valle Bio prodotti biologici vicino al centro commerciale Mirum via Valenti 1 zona baraccola Ancona fai vincere il benessere La salute prima di tutto una visita e un controllo aiutano a prevenire le malattie a vivere più a lungo a trascorrere sereni la propria età matura per questo da 20 anni il centro diagnostico e riabilitativo associati Fisiomed a Sforza Costa di Macerata ti accoglie nella grande sede ambulatoriale avvalendosi di un'equipe di medici specialisti altamente qualificati che vantano una consolidata esperienza associati Fisiomed si trova in via Natali 1 a Sforza Costa di Macerata